dato il no dei 5 stelle. Non c'è nessun motivo per dare la fiducia a questo governo, un governo che non fa contente neppure le forze di maggioranza, pronte a pretendere i poltroni e a litigare prima ancora di partire. Ad agitare il movimento ancora la questione dissidenti dopo la sfiducia ad Orellana, oggi gli attivisti, questa volta siciliani, sfiduciano Bocchino e Campanella.